Questa è una storia di una ragazza di nome Piper Questa ragazza di nome Piper era cresciuta in una campagna dalla nonna La nonna, molto vecchia, decise di andare a sene in città Piper, abituata al mondo di campagna, si incominciò ad abituare dopo qualche anno nella città Nella città c'erano molte ragazze più belle di lei E lei decise di comprarsi un ombrello, visto che pioveva quel giorno E' un ombrello E' un vestito alla moda Questo vestito alla moda Il vestito alla moda era bianco e rosa L'ombrello era invece tutto rosa, molto abbinato Poi, dopo qualche giorno Dopo qualche giorno E si scopre che questo ombrello era molto Era magico E poi, dopo qualche giorno Poi, dopo qualche giorno incontrò un'amica di nome rosa rosa era molto tenera e quindi si faceva amica e qualche volta si scontrava a la l'avere a la l'avere a la l'avere a la l'avere